Ingegnere, mi scusi, vorrei parlare. Sì? Si siete vicino a me. Ecco, vede, io... Coraggio, Sensidoni, l'ascolto. Che c'è? Io avrei la necessità di essere riportato all'ungarone. Non mi dica che vuol tornare in cima alla diga, ora. Vede, io ho dimenticato il voyon tutti gli incartamenti. Senza quelle carte mi è impossibile redigere la relazione per il ministero. Lei mi capisce, vero? Via, via, Sensidoni, mi dia retta. Si goda la cena e torni a Roma tranquillo. Domani le manderemo noi in una relazione. Basterà che lei ci metta una firma sopra. Penta, penta, guardi cosa arriva!